buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di elenchi aggiuntivi in prima fascia gps del riconoscimento dei titoli esteri e della gradatoria ata provinciale la così chiamata gradatoria 24 mesi prima domanda i docenti che conseguiranno entro giugno 2023 il titolo di specializzazione sul sostegno saranno scavalcati nelle gps per i contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato dai docenti inseriti con riserva in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero ecco questa è una domanda molto importante per capire cosa accadrà ai docenti che attendono il riconoscimento del titolo dal ministero titolo conseguito all'estero in spagna romania ma nella comunità europea per diciamo entrare in gradatoria prima fascia gps oppure di sostegno in modo tale da non avere la riserva e dunque poter avere sia le supplenze annuali sia possibilmente il ruolo da prima fascia gps ebbene da quanto emerso nel confronto del 4 aprile tra il ministero dell'istruzione del merito e i sindacati riguardo propri docenti con titolo estero inseriti con riserva in prima fascia gps e in attesa di riconoscimento da parte del ministero diciamo che l'ordinanza ministeriale 112 non verrà modificata il governo interverrà per via legislativa per consentire agli inseriti con riserva solo l'accesso ai contratti a tempo determinato ma nelle gps prima fascia saranno inseriti in coda alla prima fascia e anche in coda agli elenchi aggiuntivi dunque quelli i docenti che hanno oggi la riserva e non avevano nessuna possibilità di avere un contratto a tempo determinato lo potranno avere ma come accodati agli elenchi aggiuntivi della prima fascia in buona sostanza si faranno assunzioni dalla prima fascia gps sostegno solo appunto dalla prima fascia e dagli elenchi aggiuntivi solo per i docenti chiaramente che hanno pieno titolo per e non inseriti con riserva nel frattempo i docenti che conseguiranno il titolo di sostegno entro il giugno 2023 potranno inserirsi con riserva negli elenchi aggiuntivi nella finestra che presumibilmente verrà aperta in questo mese di aprile per poi diciamo sciogliere la riserva in verso giugno o negli inizi di luglio seconda domanda potrà inserirsi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia gps un docente che ha conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento ma non risulta inserito in nessuna gps nemmeno di seconda fascia la condizione necessaria è sufficiente per inserirsi negli elenchi aggiuntivi e quella di aver conseguito o di conseguire entro il 4 luglio 2023 la data è presumibile la specializzazione sul sostegno per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia sostegno oppure l'abilitazione ad una classe di concorso per l'insegnamento appunto di una classe di concorso in modo da potersi inserire anche in questa classe di concorso negli elenchi aggiuntivi della prima fascia gps della appunto classe di concorso chi è già inserito per altre classi di concorso gps o anche per la stessa in seconda fascia gps dovrà necessariamente scegliere la provincia in cui già si trova per le altre gps chi invece non è inserito in nessuna gps di nessuna provincia potrà scegliere una provincia desiderata per inserirsi negli elenchi aggiuntivi di prima fascia gps chiaramente poi costoro potranno scegliere anche le scuole per le gradatorie di istituto riferite alla prima fascia gps andiamo a parlare della terza domanda un collaboratore scolastico inserito in terza fascia di istituto in una provincia che abbia fatto 18 mesi di contratto a tempo determinato come collaboratore scolastico e altri sei mesi come invece assistente amministrativo potrà entrare nelle gradatorie 24 mesi nella medesima provincia per il profilo di collaboratore scolastico o per il profilo di assistente amministrativo allora l'aspirante collaboratore scolastico potrà inserirsi solamente nelle gradatorie provinciali del profilo più basso e non in quelle di assistente amministrativo infatti 24 mesi sono stati svolti per 18 mesi come collaboratore scolastico e per gli altri sei in un profilo più alto quindi nella prossima apertura della gradatoria 24 mesi potrà inserirsi nella medesima provincia dove è inserito in gradatoria l'istituto terza fascia del personale ata ma solamente per il profilo di collaboratore scolastico speriamo che le risposte date a queste domande siano utili a tutti i nostri telespettatori seguiteci nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it e noi e nei nostri canali social di youtube e facebook arrivederci alla prossima puntata